Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per lavori due chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra, signa in direzione Firenze. In A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud in Cisaregello, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla statale due cassi assenso unico alternato al chilometro 103 e 600 nel comune di San Quirico d'Orcia. La viabilità cittadina a Firenze ricordiamo che da stasera sarà chiuso l'incrocio viale Lavagnini via Leone X per lavori di Publiacqua. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!